Salve a tutti, sono Dino Picciuto di San Bartolomeo in Caldo, provincia di Benevento. Innanzitutto volevo dirvi che sono un panificatore da circa 30 anni, ma con una forte passione non solo per il pane, ma per tutto ciò che si può trasformare con la farina, tra cui anche i cornetti. Però non ero mai riuscito a farli perfetti, come mi piacerebbe. Grazie ai social, grazie a Facebook, dove ho avuto modo di conoscere lo chef Andrea Di Giglio, praticamente le distanze si accorciano perché siamo abbastanza lontani come posizione geografica, però grazie a questi mezzi molto potenti che arrivano in tutte le case ho avuto modo di conoscere Andrea Di Giglio, dove lui mi ha inviato delle video lezioni e mi hanno dato modo di perfezionare i cornetti. Alcune nozioni, sia teoriche che pratiche, mi hanno permesso di capire cose che finora non ero stato in grado. Ovviamente ringrazio anche la sua collaboratrice Fiorella, sempre gentilissima e molto chiara e quindi un caro saluto allo chef e a tutti. Grazie ancora. Salve.